Enzo De Vito vuole chiudere due operazioni per l'attacco e pescare nelle categorie superiori per completare la rosa di Roberto Taurino, anche se il mercato può sempre riservare sorpresa al photo finish con gerarchie ed idee che possono cambiare da un momento all'altro. Ecco perché tutto può ancora succedere. I lupi vorrebbero Edoardo Soleri del Palermo, classe 1997, scuola Roma, fresco di rinnovo con il rosa nero fino al 2025. I bianco-verdi già da diversi giorni puntano sulla dettilità della punta con il club siciliano che intende cedere il calciatore con la formula del prestio secco e l'avellino che vorrebbe acquistarlo in caso di promozione in Serie B. 12 gol tra campionato e Coppa nella passata stagione. Braga, Padova, Monopoli, Almero e Spezia, le altre squadre con cui ha giocato, oltre ad un'apparizione nell'Italia Under-19. Adriano Montalto, ex Ternara, resta lì fermo in rottura con la regina e pronto a chiudere in qualsiasi momento con i bianco-verdi, anche se appunto, come dicevamo prima, tutto può ancora accadere. Così come Federico Dionisi dell'Ascoli, che non ha più un rapporto solidissimo con i bianco-neri, che ad oggi è un sogno difficile in mezz'estate, ma resta appuntato al di là di ogni smentita di rito. Mirko Maric è sempre lì sullo sfondo, nel caso in cui dovessero cambiare gli scenari. Il futuro di Riccardo Maniera al momento è ancora un rebus, ci sono stati diversi contatti telefonici ed incontri con la Turris e nelle prossime ore d'indiscrezioni provenienti da Torre del Greco potrebbe esserci il faccia a faccia definitivo per chiudere la contesa.